C'è stata prospettata la possibilità nel Consiglio dei Ministri di oggi di approvare alcune modifiche, e cioè nel passaggio da una colorazione all'altra le restrizioni varranno solo per chi non ha quello che ormai chiamiamo Super Green Pass, con la possibilità di anticipare la zona gialla solo per un periodo limitato, da 6 dicembre ai primi giorni di gennaio, lo decideranno nelle prossime ore, proprio perché sono i giorni di maggior assembramento e i giorni delle festività natalizie per salvare il Natale. Abbiamo soltanto sollevato come sindaci la preoccupazione di dover spiegare in zona bianca, anche in zona bianca, che aumentano le restrizioni per chi non è vaccinato e per chi non ha contratto il virus, per chi non ha il cosiddetto Super Green Pass. Questo potrebbe essere un problema e onestamente in questo momento per il nostro Paese abbiamo bisogno di concordia, non di lacerare ulteriormente i rapporti, però questa è la decisione dell'Autorità Sanitaria Nazionale insieme al Governo. Come abbiamo sempre fatto come sindaci, la rispetteremo, cercheremo di dare anche una mano alle forze dell'ordine, che attraverso la Prefettura e la Questura, nel Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico, aumenteranno i controlli già dai prossimi giorni.